Hello, sono TheDuelist92 e oggi porto il patch rundown di patch 1.11 in Legends of Runeterra. Togliamoci subito l'unica richiesta che ho da farvi perché ne voglio parlare tanto di questa patch e avrò due argomenti abbastanza controversi da discutere subito. Inizio subito col dirvi che per cortesia vi chiedo di commentare, soprattutto quando si tratta di discussioni, queste sono mie opinioni, queste sono delle predictions sulla patch, potrebbe essere sbagliato, tantissime persone potrebbero avere un'opinione diversa, quindi commentate, discutiamone, mi può fare solo piacere, ok? Ora, andiamo subito alla patch in sé e come ho detto ho due grosse opinioni su questa patch e in particolare due grossi problemi. Io generalmente sono stato un grande fan di come Riot gestisce Legends of Runeterra, da quando il gioco è stato annunciato, dalla beta, alcune decisioni magari non mi sono piaciute tantissimo ma non ho mai avuto grossi problemi. Ecco, ora sto iniziando ad avere un paio di grossi problemi con come stanno gestendo Runeterra. I grossi problemi sono due. Prima di tutto, il ritmo delle patch. Allora, per gente che gioca ad altri giochi Riot Games, soprattutto League of Legends, Team Fat Tactics, tutti sapete che quei giochi vengono patchati ogni due settimane con balance patch, quindi buff, nerf, cambi, eccetera, eccetera. E per quei giochi, magari una patch ogni due settimane è tanta, ma è ancora accettabile. Una balance patch ogni due settimane in un gioco di carte non è accettabile, secondo me. Mi spiego, i giochi di carte, forse più di qualsiasi altro gioco esistente, sono basati su meta, ok? Il concetto di meta è imprescindibile in un gioco di carte, se vuoi giocare a un certo livello almeno. Il meta si costruisce, il gioco si sviluppa intorno al meta, il meta cambia, si evolve, eccetera, eccetera. È improponibile cambiare il gioco ogni due settimane. Questo fa in modo che il meta non abbia mai un attimo di tempo per sedimentarsi. E i giochi di carte, soprattutto, hanno bisogno che il meta si sedimenti, perché esistono cose come mazzi con matchup favorevoli, esistono tech, carte che si mettono in un mazzo per avere un vantaggio contro uno specifico matchup, o alcuni specifici matchup. Quindi se tu ogni due settimane mi cambi artificialmente il meta, vai a mettere mano al meta, già normalmente ci vogliono 4-5 giorni, minimo, dopo una patch, perché un nuovo meta venga stabilito. Poi verrà creato un nuovo meta intorno a questo nuovo meta stabilito, cioè si capisce quali sono i mazzi più forti nella patch, il meta, e ci vogliono 5-6 giorni. Il meta si sviluppa intorno a quei mazzi, e ci vogliono 5-6 giorni, e poi siamo quasi arrivati alla patch successiva. Cioè il meta non ha un secondo per stare fermo, per respirare. Una persona non ha un secondo per dire, Ok, questi sono i mazzi forti, me ne rendo conto. Cosa voglio giocare in un meta in cui ci sono? 1, 2, 3, 4 sono tier 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono tier 2, eccetera, eccetera. L'unico modo in cui una persona può seriamente e competitivamente stare dietro a un gioco di carte che patcha ogni due settimane, è se quella persona gioca e guarda video, guarda stream, 4 ore al giorno. E devo dire la verità, anche io che ho un canale YouTube, anche io che sono appassionatissimo di Runterra, non riesco a stare tanto dietro al gioco. Non è possibile. Cioè, porca troia, è ingestibile. Un meta che cambia ogni due settimane è ingestibile. Mi stava bene, era perfetto, era la soluzione ideale. Quando la Riot faceva una patch senza balance change, magari bug fix, magari aggiungeva skin, magari aggiungeva cosmetic, cambiava le ordalie, cambiava i lab, e una patch di balance. Una patch non balance e una patch di balance. Così, o una volta al mese c'era un balance change, e questo poteva andare bene nel gioco. Ora, con l'idea che vogliono rilasciare un'espansione nuova ogni due mesi, possono tranquillamente fare rilascio espansione più patch, il mese dopo patch, mese dopo rilascio espansione più patch. E se pensate che sono troppi pochi cambi, vi ricordo che ci sono tantissimi giochi di carte online, prendiamo Hearthstone per esempio, che in un'espansione, in 3-4 mesi di un'espansione, hanno una patch, e il gioco va benissimo. Non c'è bisogno di tutti questi continui cambi artificiosi dalla parte dei developer. C'è bisogno che il meta si sviluppi, si sedimenti, che la gente lo capisca bene, e che la gente costruisca un meta intorno al meta. Non c'è modo. Con tutte queste patch, tutte queste balance patch che ci stanno tirando addosso. Mi stava anche bene quando la Riot faceva, durante la patch di non balance, metteva magari uno o due cambi. Se quegli uno o due cambi non sono grossi, mi stava anche bene. Quando metteva dei cambi grossi, che rivoluzionavano il meta, nella patch che non doveva avere cambi, già allora mi puzzava un po'. Adesso è ingestibile. Un gioco di carte ha bisogno di tempo per respirare. A me io odio balance patch ogni due settimane su un gioco di carte. Potrei stare qui a lamentarmene per un'altra ora, ma non aggiungerei niente di costruttivo. Quindi andiamo alla seconda cosa che odio. Parliamo un attimo delle carte staple. Cos'è una staple? Per chi o una must? Per chi non viene da altri giochi di carte, forse questo termine è straniero. Una staple o una must, sono sinonimi, è una carta che tu puoi giocare sempre all'interno di un contesto. Ora, io vengo da Yu-Gi-Oh! Come molti sapete, in Yu-Gi-Oh! le must, le staple, sono la base del gioco, ma in tantissimi altri giochi funziona anche così. Yu-Gi-Oh! in particolare, non avendo rotazioni, le staple sono staple in quanto carte forti uscite in un periodo qualunque del tempo che rimangono forti, rimangono giocabili. In Run Terra, dall'inizio, dall'uscita, c'erano e ci sono delle staple. Ovviamente in Run Terra non solo avremo una rotazione, ma c'è la divisione in regioni, quindi bisogna andare a vedere ogni regione quali e quante staple ha. Per me personalmente, avere una o due staple a regione è perfettamente accettabile. Ripeto, una staple è una carta che tu ogni volta che giochi un mazzo con quella regione, la metti di default e poi magari se c'è qualcosa di meglio che puoi giocare al posto di quella la togli, se no quella carta la giochi a priori. Se volete un esempio di staple, possiamo prendere Single Combat. Single Combat è stata staple di The Matcha praticamente dalla beta aperta. La carta è molto forte, è molto versatile. Un'interazione di quel tipo la puoi giocare in tutti i mazzi, che siano agro, che siano control, quello che ti pare. Funziona bene con The Matcha? Perché The Matcha tende ad avere unità forti in combattimento e Single Combat forza un combattimento. Ed è un'ottima carta. E va bene, va bene che ogni mazzo The Matcha abbia accesso a Single Combat. E va bene che quando buildi un mazzo The Matcha la prima cosa che fai è mettere tre Single Combat. Poi magari ne togli una se vuoi fare un mazzo agro, se vuoi fare un mazzo super agro magari le levi tutte e tre. Se vuoi fare un mazzo combo che chiude, magari le levi tutte e tre. Va bene. però tu inizi la build con tre Single Combat. Ora, alla Riot sembra che le staple non piacciono. Che vuol dire? Prendiamo l'esempio più grosso di staple uccisa che mi viene in mente. Shadow Assassin. Shadow Assassin quando era tre mana, due, due, elusivo, quando è evocata pesca uno, era in tre peri in tutti i mazzi Ionia. Ionia era la regione più forte del gioco, va bene? Shadow Assassin era tre peri in tutti i mazzi. Aggro, control, combo, quello che vuoi. C'era Shadow Assassin. Shadow Assassin era molto forte, ma non era una carta sbilanciata, non era overpowered, nessuno ha mai detto oh mio Dio, il gioco è rovinato perché c'è Shadow Assassin. No. A Riot non andava bene che ci fosse Shadow Assassin in tutti i mazzi Ionia e l'ha nerfata. Si è passati da questa carta in ogni mazzo a questa carta non la gioca più nessuno, questo per un altro motivo, una cosa di cui ho già parlato in passato e che tornerà nel video di oggi. Una carta come Shadow Assassin è difficile da nerfare perché anche se cerchi di toglierle il minimo indispensabile l'hai tolto comunque troppo e la carta diventa ingiocabile, ma va bene. Quindi hanno nerfato la staple e questo cosa ha lasciato? Vi spiego subito. Una delle cose migliori di avere delle staple in un gioco di carte è che tu puoi bilanciare la regione intorno alla staple. Torno all'esempio di Single Combat perché ancora Riot non l'ha toccata. Tu dici ok, Single Combat è una staple in Demacia, tutti i mazzi Demacia di base gioceranno a Single Combat. Allora, Demacia ha una certa quantità di interazioni basata sul forzare un combattimento con una magia. Allora, cosa facciamo? Non serve che diamo tante rimozioni generiche a Demacia, ne hanno una super generica che sta in tutti i mazzi. Possiamo dargli un'altra rimozione magari lenta e costosa che vorranno usare soltanto mazzi lenti, quindi magari Concerted Strike. Facciamo che funziona come Single Combat per mantenere lo stesso feel, per mantenere lo stesso tema in Demacia, che le loro rimozioni si basano sul far combattere unità e non serve che andiamo ad aggiungere tante rimozioni. Possiamo prendere delle magie e farle molto situazionali, farle molto poco versatili perché tanto abbiamo la rimozione versatile per eccellenza in Demacia. Shadow Assassin, cosa molto simile. A Ionia non serviva avere tanti peschini, non serviva avere tanti tre costi, soprattutto costi tre generici. I costi tre di Ionia non sono per niente generici, sono tutti situazionali o scarsi, ma andava bene perché ogni mazzo Ionia poteva giocare tre Shadow Assassin ed eccolo lì il tuo costo tre. Ora, col nerf di Shadow Assassin, Ionia come regione si trova in una situazione che, ok, che cosa gioco di costo tre se sono in Ionia? Beh, se sono aggro potrei voler giocare Zed, se sono, se mi servono cure potrei voler giocare testi Faithful, ma tutti i costi tre sono estremamente situazionali, hanno bisogno del mazzo giusto o hanno bisogno del meta giusto, devono essere una counter a quella cosa specifica, Ionia non ha più un costo tre generico che può giocare. Perché sto facendo questo discorso? Perché la Riot è andata a uccidere un'altra staple in questa patch. Fanculo Aurelion, di queste cose ne parliamo dopo, Petty Officer. Petty Officer era la staple, era una staple enorme di Bilgewater, era la base di Bilgewater, ok? Tre mana, tre due, l'effetto quando viene evocato, quando lo giochi, cali o un costo uno random o un barile. Petty Officer era forte, veramente forte, ok? Una scala da uno a dieci era un nove tranquillo, come Shadow Assassin. Una scala da una dieci era un nove, era estremamente generico, lo giocavi in aggro, lo giocavi in combo, lo giocavi ovunque, 3x, una bel costo tre generico, garantito. apro Runterra così vi spiego il problema e giocavi Petty Officer ovunque. Ora, dopo averlo nerfato, Bilgewater, il gioco non è ancora aggiornato, tra parentesi, dopo averlo aggiornato, Bilgewater non ha più costi 3 che può giocare. togliamo Miss Fortune perché Runterra non è più in una situazione in cui mi serve un costo 3 in curva decente e ci butto il campione, no, ora come ora i campioni sono carte che devi veramente pensarci, ok? Se il tuo mazzo non... sono tantissimi mazzi che non possono permettere di avere un campione come costo 3 in curva. Quindi togliamo Miss Fortune. Che altri costi 3 rimangono? Monkey Idol dipende... questa è una carta che puoi giocare soltanto in alcuni mazzi specifici, nel resto dei mazzi è inutile. Bubble Bear è inutile, Slot Bot e Troll, Jowl Hunters, è decente ma sicuramente non è una carta generica, ok? Il problema è che il problema è di avere uno di vita poi ne parliamo, generare un Seamoster non servirà, servirà a pochissimi mazzi, Seamoster sono scarsi se il tuo mazzo non può andare deep. Quindi a Bilgewater l'unico costo 3 generico decente che hanno è Patty Officer e dici vabbè l'hanno nerfato a uno di vita non è tutto sto gran dramma Bilgewater continuerà a giocare sempre Patty Officer e no nerfare da 2 a 1 di cambiare la vita da 2 a 1 o da 1 a 2 è uno dei cambi più grossi che puoi immaginare. Innanzitutto qui lo dice la Riot stessa se ricordate Patty Officer all'uscita era 3 mana 3 1 e Patty Officer 3 mana 3 1 non lo giocava nessuno era ingiocata questa carta solo alcuni dei mazzi sperimentali Barili Full Gang Plank che era o Control che magari qualcuno tipo io aveva testato e poi non funzionavano solo in quei mazzi tu consideravi di giocare Patty Officer negli altri mazzi Patty Officer non lo giochi e questo perché 3 1 per 3 mana sono delle statistiche abominevoli e non me ne fregno l'effetto non è abbastanza forte da giustificare sta cosa l'effetto a malapena vale 1 mana vale meno di 1 mana quindi tu stai pagando un po' più di 2 mana per un 3 1 no non funziona così è terribile avere 1 di vita è una debolezza immensa e questo è il motivo per cui una carta come Jowl Hunters che in teoria è OP in realtà non si gioca in realtà è scarsa perché? perché avere 1 di vita è un svantaggio insuperabile in questo gioco Run Terra è pieno di effetti che fanno 1 di vita con poco costo o che fanno 1 ad area Make It Rain Twisted Fate Miss Fortune Vile Fist Withering Wail Unspeakable Horror Static Shock ci sono un sacco di cose che uccidono Petty Officer da effetto a gratis praticamente e ci sono un sacco di unità con uno di attacco Spacey Sketcher Aristocrat tutti i costi 1 di Shadowhiles ci sono un sacco di modi cioè la differenza tra 2 di vita e 1 di vita è immensa Petty Officer è passato da 3 peri in tutti i mazzi Bilgewater probabilmente nessun mazzo Bilgewater lo vorrà giocare ma è l'unico costo 3 decente che puoi giocare in Bilgewater e anche se dici vabbè i mazzi Miss Fortune i mazzi Miss Fortune lo vogliono un costo 3 in più non vogliono giocare solo Miss Fortune quindi o vai nell'altra regione per il costo 3 oppure giochi Petty Officer quindi Bilgewater è costretta a giocare Petty Officer ma Petty Officer è davvero 2000 volte più scarso di prima non sto esagerando quindi che succede queste sono tutte speculazioni da qui in poi saranno tutte speculazioni e questa è comunque la mia idea sulla patch ma un nerf del genere è talmente grosso da portare Bilgewater da forse la regione più forte del gioco adesso o una delle regioni più forti del gioco adesso a una delle regioni più scarse passiamo da Bilgewater e Targon sono tra le regioni più forti del gioco magari insieme a Demacia insieme a Shadowhides a Bilgewater è quasi a livello di Piltover secondo me dopo questo cambio il problema non finisce qui non è soltanto Petty Officer è nerfato e non ci sono altri costi 3 da giocare costi 3 sono fondamentali in Runeterra sono inequivocabili qualsiasi mazzo gioca costi 3 gli aggro anche i più veloci anche i più ignoranti vorranno giocare un paio di costi 3 control anche il control più lento magari passa turno 1 e 2 ma non vuole passare il turno 3 non vuole bruciare 3 mana midrange lo vuole giocare il costo 3 combo lo gioca il costo 3 qualsiasi mazzo vuole costi 3 Bilgewater non ha più un costo 3 decente ok Petty Officer 3 1 è indecente come carta è proprio è terribile non lo vorresti giocare ma lo devi giocare quindi questo dove ci porta ci porta Bilgewater come regione che diventa terribile diventa veramente molto più scarsa di come adesso questo insieme a Jack the Winner che poi ne parliamo significa che tutti i mazzi Bilgewater sono molto più scarsi e Bilgewater adesso è uno degli ultimi bastioni dell'aggro in un meta che è veramente lento almeno io vi parlo meta intorno a Master penso che in altri posti della ladder il meta possa essere diverso ma in Master il meta è molto lento ci sono mazzi lenti ovunque e si lo so sono stati toccati dalla Banned ma non è questo il punto l'unico modo per combattere un meta così lento è avere dei mazzi aggro forti Scout dopo il nerf a Warchef ha preso un serio colpo e questo è un altro nerf a Scout perché molti giocavano ancora per T-Officer quindi Scout e fuori dai giochi gli unici due archetipi di aggro che erano rimasti erano Bilgewater più Noxus quindi Pirate Aggro OTF GP se vogliamo prendere una versione un po' midrange quello e vari aggro Shadow Isles quindi Endure quindi Nightfall quindi se vogliamo anche Spider Aggro il nerf di Petty Officer è talmente enorme che secondo me i mazzi aggro Bilgewater andranno a morire o alla massimo resteranno tipo Tier 2 Tier 3 diventeranno molto molto meno forti questo che vuol dire questo vuol dire che Shadow Isles rimarrà l'ultimo bastione in vita dell'aggro e già gli aggro Shadow Isles adesso non sono un granché Endure Nightfall Spider non sono dei gran mazzi di questi forse Endure è il migliore ma niente di che quindi ci ritroveremo in un meta che era già troppo lento ci troviamo a togliere l'unica cosa che counter i mazzi lenti cioè aggro gli diamo una mazzata incredibile questo come può lasciare il meta questo come può lasciare la regione il meta sarà dominato da mazzi lenti molto probabilmente ancora più di adesso Bilgewater tra questo nerf e il nerf a Yordle Grifter che è stato un nerf indiretto a Riptide Rex che è stato un nerf indiretto a Sejuani che è stato un nerf indiretto a tutte queste cose Bilgewater sta diventando la regione più scarsa del gioco e questo ci lascia a me non da problemi che dice eh ti piace aggro ti piace ti piace Bilgewater no a me piace un meta vario ok se tu se il meta diventa giochiamo solo mazzi lenti vediamo qual è il più lento il più grosso di tutti a me non piace a me piace quando un meta è vario a me piace quando tutte le regioni sono più o meno giocabili a me piace quando c'è un meta e tu puoi giocare intorno al meta puoi fare cose contro il meta questa patch già solo col nerf di Petty Officer per me va nella direzione completamente sbagliata ora non so quanto tempo ho speso ma perché non ho il timer qui vicino ma ne ho speso tantissimo parlando solo di una carta e del sistema delle patch ogni due settimane quindi andiamo a discutere del resto della patch l'ultima cosa che dico prima di andare avanti io spero che la Riot smetta di mettere tanto mano sulle staple perché le staple sono le must sono un sistema con cui un gioco di carte riesce a costruire un card pool se tu mi dici questa regione la rimozione ce l'ha posso dargli non ho bisogno di dargli rimozioni generiche poi non devi andare a cambiare la rimozione se tu dici questa regione un costo 3 generico ce l'ha ora gli posso dare tutti i costi 3 situazionali o necessari o forti sono in alcuni mazzi poi non puoi togliergli il costo 3 generico gli togli proprio il terreno da sotto i piedi sembra quasi che il team di design delle carte delle regioni e il team di balance siano due team diversi che non interagiscono per niente team di design dice vabbè noi abbiamo abbiamo pensato Ionia per esempio in modo da avere shadow assassin come costo 3 generico e poi diamo tutti i costi 3 a caso tutte carte che o se giocano in specifici mazzi o in specifici matchup o in specifici meta e poi il team di balance dice no shadow assassin sembra forte nerfiamola questa è una cosa un'altra cosa so che la riot prende molto in considerazione durante i nerf quanto una carta è giocata alla riot non piace che una carta sia giocata in tantissimi mazzi diversi che sia presente in tantissimi mazzi della stessa regione non vedo perché dovrebbe essere un problema le staples sono il modo in cui costruisci un gioco di carte sano specialmente un gioco di carte che è appena nato se tu mi togli petty officer come costo 3 generico mi dovrai aggiungere altri costi 3 generici bilgewater non potrai aggiungermi carte come monkey idol o come bubble bear ora queste due carte cioè slot bot bubble bear sono problemi perché sono costi 3 ingiocabili mentre prima erano ok magari un giorno uscirà un mazzo carino con bubble bear o un mazzo meme con slot bot magari ci esce adesso sono problemi prometto che la smetto di parlare di petty officer e che andiamo avanti promesso allora la stagione della montagna con i nuovi aggiornamenti bla 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 non ho intenzione di leggere molto questi ogni tanto li andrò a leggere vi darò le mie opinioni sui cambi ok aurelion soul fine del turno praticamente cambia il level up di aurelion soul da devi avere 20 o più di attacco in campo a devi avere 25 o più di attacco in campo questo cambio è ok ma secondo me l'intenzione è stupida aurelion soul non ha bisogno di essere nerfato tu sai come riduci la forza di aurelion soul non nerfi la carta cambi il meta se nel meta c'è un po' più di aggro aurelion soul non ha spazio per respirare e i mazzi aurelion devono essere buildati super anti aggro il che li rende molto più deboli tu non vai a indebolire aurelion nerfando aurelion indebolisci aurelion cambiando anche solo leggermente il meta se tu non cambi il meta o se lo cambi nella direzione sbagliata rimuovendo la metà degli aggro in ladder porco cane aurelion rimarrà forte ok adesso ci vuole più tempo a livellarlo allora aurelion soul discutiamo un attimo di questa carta la prima volta che l'ho vista ho detto questa carta non sarà giocabile perché è un 10 10 a 10 mana grosso che l'unica cosa che fa è pescarti carte finché non lo livelli questo è questa carta detta così è scarsa in un meta in cui esiste aggro in cui esistono mid range potenti e pericolosi che chiudono turno 6 turno 7 turno 8 gli aggro che chiudono turno 5 turno 6 aurelion fa fatica a respirare è un 10 mana 10 10 difficilissimo da togliere che ti genera vantaggio prima ancora del level up poi quando livella dopo che aver livellato dopo che sei avantissimo nella partita ti fa riempire la partita ti fa riempire il campo e ti fa fare cose disgustose va bene ma aurelion in questa forma di 10 mana 10 10 difficili da uccidere che ti genera carte è debole in un meta in cui esiste aggro ma è assolutamente inumanamente forte in un meta lento in un meta lento tu il level up di aurelion lo puoi pure levare 10 mana 10 10 fury spell shield che quando lo giochi ti cerca un celestial 7 mana o più e ogni turno ti genera un altro celestial è semplicemente troppo pochissimi altri mazzi lenti pochissime carte riescono a competere con aurelion se il mazzo aurelion non rischia la vita da aggro non rischia la vita prima capito quindi si questo cambio ok è accettabile aurelion livellato è un pericolo gigantesco ed è necessario che cioè averlo reso più difficile da livellare ok mi sta bene ma non va a risolvere il problema se tu vuoi indebolire aurelion velocizza un po' il meta se rallenti il meta aurelion può diventare solo più forte quindi andiamo avanti radiant guardian è passata da 5 mana 5 5 e 5 mana 4 5 questo cambio è grosso radiant guardian è stata una delle carte più sottovalutate più sbroccate dall'inizio del gioco io ricordo di averla vista la prima volta in beta aperta ho fatto minchia questa cosa è immensa perché lo è la condizione di attivazione tra virgolette del suo effetto è un po' difficile non è facilissimo farla entrare in campo attivata però mamma mia 5 mana 5 5 tough già così cioè già esiste una carta che è così che è il cavaliere tal dei tali il 5 mana de match a cavaliere già esiste lui dove sta il vanguard chivalry e già questa carta non è terribile aggiungici lifesteal e vuol dire che ogni volta che lei combatte ti curi di tantissimo lei combatterà spesso questa carta è forte questa carta specialmente era proprio l'anti aggro per eccellenza se riesci a calarla attivata e aggro non vince immediatamente aggro perde lei spesso e volentieri combatterà due volte magari single combat combatte una terza volta concerted strike quindi rimani in vita un sacco di tempo quindi può combattere altre volte averle tolto uno di attacco uno di danno uno di potere chiama come vuoi ha varie implicazioni prima di tutto ti curi di meno quindi aggro ha più possibilità di cercare di chiudere anche con una radiant guardian in campo cose come single combat e concerted strike saranno meno efficaci seconda cosa il cambio di statistiche è molto influente quando parliamo di situazioni da mid range di combattere in curva molte carte a 5 mana sono intorno il 5-5 di statistiche qualcuno magari è un 5-6 qualcuno è un 4-5 ma moltissimi sono 5-5 questo vuol dire che radiant guardian anche se entra in campo attivata farà fatica a tradare con la maggior parte dei 5 mana nel gioco andiamo lì a vedere GP Garen Trandol fai ancora più fatica a tradare contro Trandol 5-5 forti in curva Artguard Firebrand Great One Companion Jack the Winner anche se è stato nerfato fai molta più fatica Ravoon tutte queste carte sono intorno al 5-5 e tutti questi trade ti diventano da positivi perché 5 mana 5-5 tough era eccezionale nei trade a decenti questo secondo me è un cambio necessario la carta sarà ancora forte e i mazzi che la giocano saranno ancora forti ma andava toccata un po' perché era più forte di un campione cioè giocavi Lux non tanto per Lux ma molto di più per radiant guardian andiamo avanti Inspiring Mentor questo è un cambio positivo Inspiring Mentor dopo il nerf in beta non è stato mai più toccato ora le statistiche hanno molto più senso Inspiring Mentor dando solo più 1 di attacco era diventata una carta prettamente offensiva e un mana 1-2 per una carta offensiva non ha molto senso inoltre un mana 1-2 in Legends of Run Terra è stranamente delle statistiche sono stranamente delle statistiche orribili a un attacco non è in modo di uccidere niente 2 di vita ok non muori da OE ma di una carta umana che ha già usato il suo effetto se muori da una OE te ne freghi poco è meglio che abbia dei trade più efficienti ok è un po' intuitiva questa cosa ma questo è un cambio buono il problema principale è che un mazzo Ionia aggro che sfrutta Mentor faccio fatica a vederlo faccio veramente fatica a vederlo Pix passa da 1 di vita a 2 di vita sarebbe un cambio carino se Pix fosse giocabile ma non è giocabile quindi no Jack the Winner da 5-5-6 a 5-5-5-5 questo è un ottimo cambio non è neanche lontanamente d'impatto come Petty Officer per i mille motivi che ho spiegato con Petty Officer Jack the Winner era semplicemente troppo grosso per quello che fa lui dovrebbe essere un 5 mana che lo cali stai attento quando ci attacchi stai attento quando ci blocchi perché vuoi il suo effetto tutti i turni però come 5-6 era un po' troppo forte a combattere magari 2 volte restare in vita per creare Sleep with Fishes tutti i turni questo è un cambio assolutamente positivo e doveva essere l'unico nerf a Bilgewater in questa patch secondo me andiamo da andiamo da Targon questa è la prima patch che tocca Targon e ci sono una buona quantità di cambi Bastion ha ricevuto un buff gigascormico proprio una cosa immensa allora il costo rimane lo stesso rimane una magia burst da fornisci a conferisci sarebbe da give a grant non so se tutti lo sanno ma conferisci o grant sono effetti che durano per tutta la partita non solo per il turno quindi scusate mentre quindi mentre prima Bastion dava Spell Shield per un turno e basta adesso Bastion da Spell Shield per sempre e da più uno più uno al bersaglio più uno più uno pure per sempre cioè non è che dici vabbè invece di dare più uno più uno e scudo da più uno invece di dare scudo e basta da scudo e più uno più uno no da scudo più uno più uno per sempre Bastion è passato da magari sei stelle su dieci a dieci su dieci fine questo è un buff gigante prima di tutto un po' di un po' di un po' di paragoni Giddi Sparkologist è diventata praticamente un meme è diventata una battuta vivente sta carta fa la stessa cosa che fa Bastion è vero che viene con un 2-2 ma lo fa a velocità lenta e devi avere una carta celeste in mano Bastion lo fa quando vuoi come vuoi perché vuoi dove vuoi come vuoi ok un'altra cosa che ho pensato subito appena ho visto questo cambio è Moonglow questa carta era l'unica che poteva dare spell shield permanente a un'unità ed era la forza di questa carta tu dici vabbè se gioco che ne so Lisino se gioco Mind Splitter o Spacey Sketcher ho la possibilità di fare Moonglow magari in un turno in cui so che l'avversario non è il mana per rispondere così adesso il mio Lisino il mio Mind Splitter il mio Aurelion il mio Great Beyond se ha perso magari il spell shield il mio Immortal Fire avrà spell shield per il resto della partita ora Bastion può fare questa cosa quindi è andato un po' a rubare l'identità di Moonglow tra virgolette questo cambio è gigante questa carta era una monocopia situazionale in Lisin e non veniva giocata quasi nessun altro mazzo ora immagino Bastion giocata in due o tre copie in ogni singolo mazzo Tarbon questa cosa è enorme ci sono un paio di implicazioni da considerare su Bastion prima di tutto l'idea di poterla giocare in mazzi che non siano Lisin perché ora come ora la giocavano solo mazzi Lisin praticamente quindi se andiamo a prendere per esempio come dicevo prima mazzi Aurelion Mind Splitter addirittura ora come ora ho visto tantissimi Freljord Targon tagliare proprio Aurelion e giocare solo per Mind Splitter va bene ci sono altri ma addirittura mazzi Agro ho intenzione di testare Nightfall Agro con Bastion perché su Diana o su Nocturne può essere veramente forte midrange con Leona Leona Lux tutti i mazzi Targon cercheranno di giocare Bastion c'è un'altra cosa da dire su questa carta e parliamo di Lisin nello specifico Lisin è un mazzo che normalmente questa è una lista che voglio provare post patch Lisin è un mazzo che normalmente ha bisogno di avere alcune magie che può giocare semplicemente come attivatori per attivare Claw per attivare Eye per attivare Deep Meditation Lisin eccetera eccetera Bastion prima Bastion però in live non lo puoi usare così cioè lo puoi usare così ma è 3 mana faccio nulla ok lo spell sheet finisce a fine turno quindi se non l'hai usato hai speso 3 mana solo per usare una magia adesso Bastion lo puoi usare quando vuoi mi serve una magia per Eye of the Dragon fanculo Bastion su Eye of the Dragon soprattutto contro aggro può essere un'ottima giocata mi serve una magia per calare Claw vabbè tiro Bastion su Lisin tanto non va sprecato questo è un cambio enorme il fatto che non sei costretto a usarlo in risposta ma che lo puoi usare attivamente per ora ne ho 2 ma sicuramente testerò anche con 3 questo cambio è gigante è un buff enorme andiamo avanti penso il secondo il secondo cambio più importante della patch oltre Petty Officer sorry Cosmic Inspiration fondamentalmente non tiri da Spellmana quando la giochi meno male questa carta era disgustosamente forte specialmente in un meta lento spesso e volentieri tanti matchup di che ne so che ne so Lux Aurelion contro Mind Splitter Aurelion diventavano una situazione del tipo haha io ho le mie risorse e tu hai le tue risorse lui ha tirato Ispirazione Cosmica oh cazzo se non la tiro anch'io non posso più vincere la partita tutti i miei trade diventano negativi tutte le sue unità diventano giganti carte come Spaces Catcher cose come Spaces Catcher che cerca The Serpent diventano immense i mazzi in Mentor of the Stone questa carta era soprattutto molto forte in mazzi Mono Targon peccato che i mazzi Mono Targon sono stati quasi sono stati pochissimo giocati e non c'è niente da dire prima costava 4 mana sta carta ma ne costa 7 prima era come un'unità a 4 mana non potevi pagarla con Spellmana però lo Spellmana non te lo toccava quindi dovevi castarla 4 più 3 e ti ridava 3 era troppo forte era troppo forte era non erfata non ho fatto bene Nonno Rumul adesso conferisce 0 più 4 due alleati questa carta potrebbe essere decente sinceramente ancora non ce la vedo però in un meta così super lento forse potrebbe trovare uno spazio non sono sicuro non ho ancora grande fiducia in una carta del genere perché dare più 4 a un alleato a turno 8 non mi sembra una cosa molto di impatto lui stesso ha overwhelm e spell shield e ha tanto attacco ma 4 di vita non può darsi 4 da solo se potesse magari dare più 4 a se stesso e più 4 a qualcos'altro ecco già così sarebbe veramente giocabile per ora è whatever cioè non penso che sia un gran cambio ma magari magari ne viene fuori qualcosa hash ora praticamente ogni hash ogni fleeting hash che crei dopo la prima costerà un mana in più quindi la prima hash costa 3 mana la seconda hash costerà 4 la terza hash costerà 5 questo è un nerf che mi sta bene io non sono una di quelle persone che odia hash sono convinto che avere un po' di interazione nel gioco sia necessario e silence è un buon modo per averla purché il silence sia costoso e non sia facile da giocare forse avrei preferito se hash costasse 4 mana magari così sarebbe troppo scarsa però questo è un buon cambio uno dei problemi di hash era che poteva da solo hash poteva battere poteva mettere con le spalle al muro mazzi come nightfall aggro o come endure se magari voleva calare un endure più calista più qualcos'altro c'erano alcuni mazzi che proprio tu dici wow questo mazzo è fighissimo però ti faccio hash 3 volte e hai perso la partita già hai capito in quelle situazioni hash ora è molto più debole e mi sta bene qui accennano che stanno preparando un grosso rework di hash magari la faranno costo 2 ma che non ti crea delle altre hash in mano mi sta bene anche così l'idea di poterla giocare più volte ma ogni volta che la giochi in più ti costa più mana sinceramente mi piace di più l'idea di poterla ripetere una carta del genere mi piace molto però non sono non sono non è un cambio di cui vado pazzo ma mi sta bene un minimo di nerf a hash era necessario perché stava veramente controllando un po' troppo il meta magari alcuni aggro troveranno più spazio con questo nerf non lo so inoltre c'è da dire che ora è più difficile per hash sfondare gli spell shield prima magari se avevi mind splitter con bastion o lisin con bastion o aurelion costava solo 6 mana sfondare cioè rompere lo spell shield e poi silenziarlo ora costa un mana in più quindi magari se hai non lo so lisin con spell shield e un'altra carta che lui deve silenziare sono 3 mana in più da spendere sono tanti quindi eh potrebbe avere delle grosse implicazioni non ce lo vedo però per finire mountain goat da 1 a 2 di vita come ho detto con petty officer cambiare la salute da 1 a 2 o da 2 a 1 è un buff gigante è un cambio gigante soprattutto su una carta come mountain goat che ha bisogno di combattere per attivare per attivare l'effetto mountain goat è una carta decente non è male soprattutto se riesci un pochino a proteggerla in battaglia magari con qualche buff o con delle barriere le gemme soprattutto i mazzi come lisin possono essere carte di impatto il problema è che a 1 di vita incorreva nello stesso identico problema di river shaper prima del buff 3 mana 2 1 lo giochi ti prepari per attaccare con la faccia cattiva lui ti fa va il fist e tu ti chiedi perché stai giocando una carta di merda del mazzo stessa cosa c'era con mountain goat ora dopo il buff la vedo giocabile la vedo giocabile il problema è che il mazzo principale a cui si pensa con una carta del genere è lisin e lisin fa stranamente fatica a inserire una carta come mountain goat è meno efficiente di gift giver anche se in realtà potrebbe prendere il posto di gift giver però avere il costo 1 blocker è importante abbiamo già abbastanza costi 2 però mountain goat più il cambio di bastion potrebbe dare vita a una nuova variante di lisin che tanti stanno già testando una versione più aggressiva qui c'ho una bozza che ho buttato giù ieri sera proprio senza niente da fare con zed con lisin molto più aggressiva voglio anche testare l'arbiter of the peak che magari giochi mountain goat che non giochi eye of the dragon che possa spingere di più con tutti i buff tutte le gemme e con una carta come zed questa è un'idea in genere mountain goat è passata da ingiocabile a un decente costo 2 da giocare in curva per targon e targon come costo 2 decente in curva aveva solo solari shield bearer quindi mi sta bene altri cambi non mi sembra ce ne siano di grossi nuovo laboratorio un laboratorio single player lo voglio sicuramente provare hanno messo un nuovo dorso che è molto figo devo dire la verità la farfallina niente di importante hanno messo una cosa comoda hanno messo delle classifiche in game così non dovremo più basarci su siti di terze parti e hanno messo anche la match history la cronologia delle partite sul sito della riot così non dobbiamo usare i siti di terze parti spedizioni non mi è mai interessata fine le considerazioni finali sono le stesse considerazioni iniziali del video uno non mi piace una patch ogni due settimane diventa veramente troppo frenetico seguire il meta soprattutto per come io approccio mazzi video e cose così io di solito dico ok mi piacerebbe mi piacerebbe provare questo mazzo vediamo se ci faccio un video lo gioco per una decina di partite dico ok mi piace adesso lo perfeziono ci faccio pratica e ci faccio il video faccio magari altre trenta partite passano 3-4 giorni magari poi decido ok oggi lo registro lo registro oggi la parte 2 esce domani quindi da che io ho visto il mazzo a che lo pubblico passano 5-6 giorni se mi fai una patch ogni due settimane io mi sento veramente schiacciato da sta cosa ma non solo cioè questo è il mio punto di vista come content creator ma anche come giocatore se devo andare a fare un torneo o se devo giocare in ladder cioè non so più dove girarmi cosa è forte cosa non è forte hanno patchato quello eh una settimana fa non è fatto agro quindi il meta è cambiato tre volte il meta e run terra cambia tanto perché ci sono tanti mazzi da meta ci sono già un sacco di carte anche se il gioco ha meno di un anno se mi fai una patch ogni due settimane io non ci capisco niente cioè veramente devi essere uno che gioca che gioca che vede stream che vede video almeno 4 ore al giorno tutti i giorni per riuscire a seguire bene il meta se fanno una patch ogni due settimane io sono convinto di questa cosa e non mi piace va bene ho veramente fatto durare troppo il video mi sono lamentato un casino cosa che non faccio di solito in video ci vediamo con la parte 2 di lisi in combo domani ho voluto far uscire il patch review adesso dodo lisi 92 saluta ci becchiamo domani e l'ultima cosa che vi dico che me l'avevo scordata lascerò in tutti e due i video di lisi in combo un messaggio in evidenza in cui dopo aver testato il mazzo dopo la patch magari una decina di partite vi dico se c'è qualcosa che cambierei sicuramente aggiungerò almeno un bastion e vi dico i cambi e che differenza fa la nuova patch per il mazzo va bene 2dlis 92 vi saluta ci becchiamo domani con la parte di lisi in combo bye bye ciao